Cari colleghi, è un piacere essere qui con voi. Volevo augurare a tutti i miei pazienti, i miei colleghi, gli amici, un felice anno nuovo e un Natale gioioso con i propri parenti. Spero di vedervi quanto prima in qualche congresso, magari al mio congresso che ci sarà a giugno, o in qualche corso precedente, o magari in studio. Grazie a tutti per la collaborazione nello scorso anno e spero che l'anno prossimo sia migliore del precedente, come si suol dire. Ciao a tutti.